Ciao, sono Daniele, ho 28 anni e sono di Milano. Sono Francesco, ho 22 anni. Sono Francesco, ho frequentato il centro formazione Coupier, il corso da Coupier. Ciao a tutti, mi chiamo Michael, ho 21 anni, ho fatto il corso a Milano con Stefano, l'ho finito a Padua con Marco. Ho frequentato il corso CFC, centro formazione Coupier a Roma. Il corso è bellissimo, ha durato poco o meno di due mesi. Ho fatto la scuola centro formazione Coupier ad aprile 2011, che sono due anni che io vivo a Venezia. La cosa più bella di quel corso è che dopo poco o meno di tre mesi ho trovato lavoro al casino di Venezia, come dealer. Siamo qua al casino di Canogher in qualità di dealer del box. Dealer Texas Holden. Sono due anni che sono qua insieme ad altri miei colleghi con i quali convivo. Abitiamo da due anni a Mestre. Ci troviamo abbastanza bene, siamo un bel gruppo anche qua al lavoro. Ci speriamo abbastanza bene. Il lavoro va bene. La vita è molto più tranquilla rispetto a Milano. Diciamo che questo lavoro era partito come una sfida, poi invece con il passare del tempo siamo qua da due anni fissi. Il lavoro all'inizio è stato impegnativo in quanto ci lavorava di notte e non avevamo ancora bene presenti gli orari, invece adesso con il passare del tempo ci siamo adagiati. Diciamo che lavoriamo dalle sette di sera fino alle due di notte, si va sempre a letto tardi, comunque è una vita tranquilla e ci stiamo divertendo. Io consiglio a tutti, poi indipendentemente se fare il pubblico o se fare il dealer, però comunque qua si sta bene, si lavora bene, si lavora in un casino. I pregi sono che lavori in un casino, quindi lavori comunque con gente, sei sempre appoglato con bella gente diciamo, sei tutelato, i fatti sono che hai forse troppo tempo libero durante il giorno, che lavori di notte, quindi hai la vita un po' irregolare, però io bene o male nella mia vita ho sempre fatto questo tipo di lavoro, perciò ho lavorato sempre di notte, quindi mi trovo bene rispetto a lavorare di giorno. E poi il fatto di essere a contatto con la gente, che penso sia un pregio secondo me. Sono molto grato al centro di formazione Proupier e a Stefano. Vedremo se in futuro ci saranno porti in Italia ad andare altrove, però per il momento qua siamo molto bene. La professione che coincide con la propria passione. Grazie a tutti.